Salve youtubers e benvenuti ad un nuovo vlog Questa volta si parla di festività natalizie Ah, il Natale Il Natale è o non è il periodo più bello dell'anno La neve, le decorazioni, i parenti a casa Ma soprattutto, i regali! E lo metto ancora adesso a 22 anni suonati Non vedo l'ora di vedere cosa c'è sotto il mio albero Mi piace vedere fatti i pacchi piccoli, grandi, colorati Ed è in questi momenti che mi piacerebbe tornare bambino Perché da bambino era tutto molto più magico Tutto molto più vivo Pensate ai vostri Natali passati Quando eravate più piccoli Vi ricordate quando si andava vicino all'albero A toccare i pacchi per vedere quali erano molli e quali erano duri Perché i pacchi molli erano sempre vestiti E a nessuno piacevano i vestiti Mentre quelli duri erano quasi sicuramente giocattoli A non importava quasi di più della scatola che del regalo in sé L'emozione di scartarla e piano piano aprirla Non ha pari Ovviamente ogni tanto la fregatura c'era Aprivi la scatola e dentro ti trovavi un vestito Truffatori! Invece quando diventi grande il regalo in cosa si riduce? In un accacchio di busta di soldi Ma cosa sono un poliziotto da corrompere? Cos'è una bustarella? Si è persa tutta la magia O vi ricordate quando i vostri genitori vi dicevano Scrivi la lista dei regali che vorresti per Natale? E noi stampavamo un foglio e scrivevamo di tutto Dai pupazzi, alle otto, il sai, i videogiochi, qualsiasi cosa Solo che noi fraintendevamo Noi pensavamo di ricevere tutti i regali sulla lista Invece Babbo Natale ce ne portava uno solo Bastardo! Poi all'improvviso c'è un anno in cui capisci che Babbo Natale non esiste Ma nessuno te lo dice Lo capisci e basta Perché tutti si ricordano i giorni in cui tu ti infili nella stanza di tuoi genitori E nel loro armadio trovi i regali di Natale Quel giorno è molto triste perché scopri appunto che Babbo Natale non esiste Ma è allo stesso tempo il giorno più felice della tua vita Perché scopri come fregare i tuoi genitori Siccome adesso sai dove i tuoi genitori tengono i regali E ovviamente prima del 25 non te li fanno mai aprire Puoi rubare il gioco, giocarci e rimetterlo a posto Siamo meglio di Diabolic Ma poi quant'era bello sedersi sul divano e guardare con i propri genitori Gli speciali di Natale della Disney Ora invece te li devi andare a cercare su Youtube Una tristezza E poi come ogni anno a questa parte Cosa darmi un TV? Una poltrona per due Non me lo sono mai perso Lo avrò visto dieci volte Diciamo che più cresciamo e più percepiamo diversamente tutto quanto Credo sia normale ma mi dispiace un po' Anche per strada per esempio Qui a Torino agli anni passati c'erano a doppio fungo Ogni albero aveva la sua luce Tutto quanto Ogni piazza addobbata Invece man mano che vanno avanti gli anni Mai niente C'è sempre meno Roma Uno schifo come al solito Ma io ho questa parte dentro di me Questa parte bambina Che credo che ognuno abbia E vuole che il Natale sia magico Come deve essere vissuto Quindi il video finisce qui Ma non vi faccio gli auguri di Natale Perché arriverà un altro video sul Natale Ovviamente prima di Natale Se no non ha senso Dove... Vabbè, troverete Non vi anticipo niente Però voglio farvi una domanda Che potete rispondere nei commenti se volete Qual è quel regalo di Natale Che voi avreste sempre voluto avere Ma che non vi hanno mai regalato? Per me era un gioco da tavolo Che purtroppo non mi ricordo il nome Ma comunque qualcuno lo conosce Ma comunque qualcuno lo conosce Era un gioco da tavolo Horror, diciamo tra virgolette Dove in mezzo c'era un castello E tu muovevi le pedine Che erano dei personaggi E nel castello c'erano delle trappole E tutto fatto di cartone Diciamo era tridimensionale Fatto di cartoncini Come dove devi passare Delle trappole Delle torte E scattava tutto Con i dadi Era bellissimo L'avevo visto una volta Poi non l'ho mai più trovato Neanche adesso non riesco più a trovarlo E poi da lì in poi Poi l'ho sempre voluto Perché ci avevo giocato una volta E mi era piaciuto veramente un casino Non so il nome purtroppo Perché appunto non l'ho più trovato Però non me lo sono mai dimenticato Quindi il mio gioco Che ha preso il tuo punto È quello lì Niente fa più time Oggi ci sarà nel prossimo video Prima di Natale Un saluto